Incontriamo Paolo Battaglia, la teta borgese, presidente del premio Pentafoglio, critico d'arte, che ci parlerà proprio del premio Pentafoglio. Sì, buonasera. Il premio d'arte e Pentafoglio è giunto oggi alla sua quarta edizione e quest'anno è stato un calendario molto ricco, molto fitto. Sì, domani premeremo la memoria del vice brigatiere salvo d'acquisto in occasione del quinto memorial podistico a lui dedicato e che si svolgerà nel cuore di Palermo. Per questo abbiamo avuto grandi complimenti. Stasera premeremo la memoria di Giuseppe Garibaldi, ci troviamo qui a Villa Bennici, che è adiacente il ponte Miraglio, dove tutti sappiamo è passato l'eroe italiano, l'eroe dei due mondi. E consegneremo, visto che ci troviamo qui, perché abbiamo raccolto la richiesta di collaborazione per la rivalutazione di questa zona e di questo parco in particolare, consegneremo questo premio alla memoria di Giuseppe Garibaldi nelle mani del presidente della circostruzione, Antonio Tomaselli. Abbiamo già premiato nei giorni scorsi il sindaco Orlando, il professore Orlando, per la sezione Grandi Sindaci d'Italia e abbiamo premiato il direttore di RAI Sicilia, il direttore generale di RAI Sicilia, Salvatore Cusimano. Sempre a ottobre, il prossimo mese, premeremo il presidente della Repubblica Polacca ed ecco perché è stato un anno molto fitto, molto ricco. Il premio Narte Penta Foglio sta rispecchiando la sua natura, cioè le motivazioni per cui è nato, e cioè di riconoscere, di insegnare tutte quelle persone, anche i comuni cittadini che con le loro attività hanno testimoniato con il loro lavoro, con il loro operato, l'elevazione dell'umanità attraverso l'operosità e la cultura. Ecco lo spirito di Premio Narte Penta Foglio.